ripido e' il mio youtuber preferito ciao sono straniero ciao ragazzi ciao Montescudo di nuovo Montescudo andiamo a provare la nuova le nuove linee cinghialine oggi il titolo del video è grazie grazie mario grazie mario è che la si offre tutto mario ragazze sapete sì di nuovo cinghialine cinghialine stavolta facciamo la via giusta prima abbiamo preso quella dove si va per le rampe adesso andiamo via dritti ripido bellissima 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 ragazzi parco giochi è un parco giochi molto escudo bellissima bellissima va a gara molti scudo destra destra aspetta rovi 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 bella, che lei, qua oh Oh di pagare i caffetti la balla dai il caffetto proprio post bontescudo metterà sul capo qui